Per commentare questa bruttissima partita, Riccardo, tra l'altro diciamo che hai avuto un piccolissimo problema fisico ieri, non hai iniziato la partita dall'inizio, nel primo tempo l'hai vista dalla panchina, forse un Pescara troppo brutto per essere vero. Sì, ieri ho avuto una congiuntivite, quindi il mister ha preferito così, purtroppo siamo partiti subito male, ho destabilizzato subito quel rigore, ma oggi c'è poco da parlare, c'è da stare zitti, c'è da lavorare in settimana, bisogna pedalare, l'unica ricetta che conosco io è il lavoro, perché se siamo qui a farci le pippe mentali non andiamo avanti, bisogna correre e dare di più in settimana, e arrivare le partite più pronti mentalmente e fisicamente. Anche perché il Cerignolo arrivava prima sulle seconde palle, correva di più, correva meglio, dava proprio quella sensazione di giocare contro una squadra che mentalmente era fuori dalla partita. Sì, non voglio cercare alibi, sicuramente abbiamo fatto una bruttissima partita, su questi campi c'era vento, sicuramente non era facile giocare, ma una squadra attenta, sicuramente si adatta subito, subito alla partita, che era una partita fatta, come hai detto te, sulle seconde palle, quindi bisognava avere più ferocia sulle seconde palle e cercare di andare immediatamente davanti, perché diciamo che non era un campo che permetteva troppo palleggio, infatti loro hanno fatto bene andando subito sui terzi e verticalizzando subito sulle due punte. Niente, c'è poco da dire, siamo ovviamente dispiaciuti, bisogna stare zitti e sinceramente oggi c'è poco da dire. Io ti chiedo due cose Riccardo, prima di far fare una domanda da studio. La prima, tu hai tanta esperienza, come ti spieghi un Pescara che il 27 novembre si gioca il primato con un Catanzaro che è clamoroso per questa categoria e a distanza di un paio di mesi ha una media retrocessione? Il fattore non può essere certamente solo uno. Sicuramente non è mentale perché non ci crede nessuno? No, abbiamo detto che è anche mentale, sicuramente anche un po' fisico arrivate a questo punto, fisico e mentale, dobbiamo avere più cattiveria. Sicuramente la partita con Catanzaro ci ha dato il là a questa serie di prestazioni che sono state molto altalenanti, non è che buttiamo tutto via, però di partite da Pescara ne abbiamo fatte poche. Si dice, non ci sono voci ufficiali, ma comunque le voci ufficiose sono tante, che torna Zeman che tu hai avuto nella prima esperienza a Pescara. Sì, oggi non è il massimo per parlare di questo, purtroppo ci sono io qua davanti le telecamere, però niente, chiunque ci sia bisogna cambiare noi la marcia perché non dipende solo dai mister quello che noi facciamo in campo, bisogna mettere noi tutti qualcosina in più. Una domanda da studio, do l'auricolare a Riccardo Brosco e poi salutiamo il centrale difensivo Biancazzurro. Buonasera Riccardo, c'è Fabio Ferraresi, magari più indicato lui da ex calciatore. No, ma la domanda, più che altro la mia, la considerazione, non so se voi avete avuto la percezione del fatto che il vostro allenatore fosse in grave pericolo, è comunque molto in bilico e mi domando, mi chiedo una prestazione del genere, denota che comunque avevate poca voglia di salvargli la panchina, perché sinceramente mi viene difficile pensare a qualcosa di buono di questa partita di oggi. Sicuramente le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente non sono tutte positive, quindi non è che volevamo mandare via nessuno, anzi, il mister è una bravissima persona, abbiamo sempre cercato di dialogare con lui, però oggi ci ritroviamo purtroppo in questa situazione, e quindi bisogna dare una scossa per forza tra di noi, prima di tutto, e poi quello che verrà fuori poi deciderà il presidente e il direttore.